abbiamo in diretta nazionale eccola complimenti complimenti sei in diretta su Vice 99 Fishing i tuoi primi commenti per questa straordinaria impresa complimenti è stata una giornata perfetta il mare era fantastico emozioni grandissime un po' di ansia all'inizio ma me la sono divertita devo dire la verità bello bello senti stiamo commentando prima questa particolare tecnico anche che hai dovuto affrontare una virata la virata l'ha affrontata Lidia ah ok lei ha fatto 70 metri in dinamica diretti quindi lei è partita da lontano degli scogli e si è avvicinata diciamo che anche lei ha avuto le sue difficoltà perché il mare a differenza della piscina abbiamo differenza di pesata di scivolamento la partenza comunque non viene fatta in maniera tranquilla nel senso che non sei in piedi ero pancia a terra col boccaglio la respirazione è completamente differente abbiamo dovuto aumentare dei pesi comunque sott'acqua vieni spinto un po' a destra e a sinistra le sensazioni sono completamente diverse dal mare senti oltre a farti complimenti la domanda è d'obbligo se vuoi fare dei ringraziamenti o qualche dedico particolare guarda in questo momento voglio solo ringraziare la mia squadra per tutti i sacrifici che hanno fatto in questi due mesi di allenamento che è l'apnea team brutto e andiamo subito a domanda e andiamo subito a domanda